Difense! Difense! Come fa la nuova? Io! Ohhhh! Tempo, tempo! Omerico! Passi! Tenta secondi! Tenta secondi! Più uno voi! Più uno! Ma io non vedete più! Ma io non vedete più! L'altra parte! Questa è stata attiva! Non è questa che era mafondata! È questa che era nella mediterranea della colazione di terra! Va a darci mato! Votre meno? Votre meno? Votre meno! Vai a gol! Vai a gol! Vai a gol! Vai a gol! Feduzzi! Ohhhh! Ooooooh! Giovanni! 15 secondi! Votre meno! Buona, 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 buona